Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Mi tolgo intanto gli epecchi che sono ormai secchi. Oggi vorrei rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte riguardo al percorso che sto seguendo con una psicoterapeuta. Ora, questo è un video non fatto perché vi facciate gli affari miei o perché io ci tengo a condividere il mio percorso personale, perché è una cosa molto personale, ma vorrei attraverso questo video farvi capire come funziona e farvi capire se magari può fare anche per voi questo percorso, quali sono le difficoltà, cosa c'è da aspettarsi, insomma tutte queste cose che spero possono esservi utili. Secondo me la maggior parte delle persone prima o poi ha bisogno almeno di uno psicologo se non di un percorso di psicoterapia. Non vi immaginate che per iniziare un percorso di terapia bisogna avere chissà che problemi, chissà che difficoltà. Lo si può fare ad esempio anche solo per volersi migliorare come persone per lavorare su se stessi a livello mentale, non a livello fisico. È come scegliere di andare in palestra e lavorare su certi aspetti del proprio corpo. Stessa cosa ma a livello mentale. Voi pensate che chiunque può andare in palestra, chiunque può scegliere di migliorarsi a livello fisico, chiunque può andare da nutrizionista, anche se una persona che ti sembra in forma può andare da nutrizionista, può andare in palestra, perché vuole migliorarsi, vuole lavorare su certi aspetti. Stessa cosa andare dallo psicoterapeuta. Si può andare dallo psicoterapeuta anche solo perché si vuole migliorare se stessi. E io ci sono andata appunto per questo, scoprendo che poi in realtà ne avevo bisogno per altri lati del mio carattere che davo quasi per scontati, cioè davo quasi per scontato che certi comportamenti fossero così, punto. In realtà sono comportamenti che volendo si possono risolvere e possono aumentare la qualità della mia vita. Ma torniamo indietro. Allora, oggi intanto mi andrò a truccare, far skin care con voi. Tutti i prodotti che userò ve li metto giù in descrizione perché non voglio perdermi col... Sto usando questo, questo prodotto mi piace molto, questo prodotto serve a... eccetera eccetera. Quindi voglio solo parlare di questo percorso, ma nel mentre voglio fare qualcosa per intrattenervi. Seconda cosa, tutte le domande a cui risponderò vengono dal box domande che vi ho messo su Instagram. Mi trovate come chiara.smr ieri. Ho visto che c'era molta curiosità, molto interesse riguardo questo argomento e mi fa piacere perché comunque è un argomento di cui è bene parlarne di più perché magari così alcune persone prenderanno il coraggio di iniziare questo percorso. Quindi ho deciso di raccogliere le domande più frequenti e di rispondere in questo video piuttosto che fare un discorso completo, ecco. Comincio con la prima domanda e una domanda molto frequente che mi è stata fatta è appunto cosa ti ha spinto a iniziare un percorso di terapia? Cosa ti ha fatto fare il click? Cosa ti ha fatto capire che dovevi iniziarlo? Allora, in realtà io volevo fare questo percorso appunto di io lo vedo molto come un percorso di crescita personale e lo volevo fare da tantissimo tempo. Io ho iniziato a dicembre 2021 il mio percorso e contate che lo volevo iniziare addirittura pre-pandemia. Cioè era da tantissimo tempo che procrastinavo e rimandavo questa scelta perché mi metteva paura, perché mi metteva ansia il fatto di dover cercare qualcuno e poi se non mi trovo bene e poi se non risolve niente, ma tanto inutile, vabbè lo faccio domani, tutti questi pensieri, no? E se vi trovate in questi pensieri magari vi sarà utile anche appunto iniziare un percorso. In realtà io ci volevo appunto andare perché sentivo che c'erano dei lati del mio carattere o comunque dei miei comportamenti ecco che mi limitavano, limitavano il mio rapporto con le altre persone, limitavano il mio potermi godere ciò che avevo ottenuto, limitavano la mia carriera e le possibilità che io mi davo perché magari rinunciavo a tantissime cose proprio dal principio, tantissime idee, a tantissime opportunità perché avevo paura e comunque ci rinunciavo fin da subito, pure procrastinavo. Quindi sentivo, io ci sono andata soprattutto per questa cosa della procrastinazione perché sentivo che non ce la facevo più, cioè... E dopo questa cosa l'affrontiamo un pochino meglio perché ci sono anche domande su questo argomento e diciamo che non avevo idea di cosa mi aspettava. Non c'è stato qualcuno che mi ha detto guarda questa cosa mi ha aiutato molto in questo aspetto della mia vita quindi magari può essere utile anche a te, no? Sentire la testimonianza di qualcuno mi avrebbe convinto a farlo prima quindi spero che la mia sia la testimonianza che vi può convincere o che comunque può anche farvi accettare un pochino di più che qualcuno intorno a voi voglia seguire un percorso di terapia. Quindi io appunto volevo migliorarmi come persona. Io non avevo proprio idea di come funzionasse la mia mente. Diciamo che la cosa che più mi ha sconvolto di questo percorso è il fatto che prima io non mi conoscevo cioè non mi conoscevo a livello profondo non sapevo tradurre i miei comportamenti in emozioni e la cosa che più la terapia per me ha fatto è tradurre ciò che succede nella mia vita e ciò che faccio e le mie azioni in emozioni ed è un percorso che sto facendo ancora ora. Molto spesso la mia terapeutica mi dice ok abbiamo affrontato ad esempio mi ha raccontato un episodio che è successo per cui magari ti sei arrabbiato per cui magari ci sei rimasta male me l'ha raccontato a livello cognitivo quindi mi ha raccontato è successo questo io ho detto questa cosa e mi sono comportata in un certo modo e mi sono sentita triste eccetera eccetera ma la cosa difficile è tradurla in emozione quindi è successa questa cosa e io come mi sono sentita perché mi ha reso triste che cosa mi ha fatto ricordare che insicurezza mi ha portato a galla perché mi sento così perché questo mi provoca insicurezza e visto che questo mi ha provocato insicurezza mi ha provocato questa sensazione che può essere vergogna che può essere paura che può essere quasi sensazione io non voglio provare ad esempio paura o insicurezza e quindi reagisco in un certo modo e mi ha fatto questa insicurezza e mi ha fatto reagire in questo modo quindi la voce nella mia testa ha detto al mio bambino interiore no non vale abbastanza e quindi non sentendomi abbastanza di valore ho reagito in questo modo ma questa traduzione è una traduzione che avviene appunto a livello emotivo non è una traduzione a livello cognitivo quindi per me il procrastinare era il procrastinare era l'essere pigra era il non voler fare qualcosa perché non sono abbastanza motivata o perché non sono abbastanza organizzata eccetera eccetera e sicuramente l'organizzazione o la motivazione aiutano ma dietro c'è tutto un mondo e se noi non andiamo a curare le nostre sensazioni primordiali quindi le nostre insicurezze il fatto di non sentirci accettati il fatto di non sentirsi abbastanza il fatto di non credere di essere bravi abbastanza il fatto di magari non pensare che nessuno ci possa amare tutti questi piccoli traumi tutte queste insicurezze che noi abbiamo nel nostro profondo noi non le vogliamo ammettere e soprattutto non vogliamo provare queste sensazioni quindi noi attuiamo cento i comportamenti e dopo ve lo andrò a spiegare in maniera banale con cui io l'ho capita perché ovviamente io non sono una professionista questo è stato il mio click come ho scelto la mia terapeuta? allora io in realtà una cosa che mi bloccava appunto era il fatto che non sapevo chi scegliere avevo paura di sbagliare avevo paura di non trovarmi bene e se non mi fossi trovata bene conoscendomi probabilmente mi sarei arresa quindi mi sento molto fortunata ad aver trovato una professionista che mi piaceva fin da subito quindi ho provato a fare una ricerca online semplicemente cercando psicoterapeuta più il nome della mia città mi sono scratta di dirlo ovviamente che penso sia sia al maschile che al femminile e guardavo le pagine internet guardavo le recensioni e guardavo chi aveva la sua pagina personale quindi chi si descriveva e io ho trovato la mia terapeuta appunto aveva tutta questa descrizione intanto vedere anche il viso un po' se ti ispira fiducia se non lo so così è una cosa molto che non si sa spiegare va molto a istinto no? e poi appunto mi ricordo che c'era una frase con su scritto si può iniziare un percorso di psicoterapia anche solo se si vuole migliorare se stessi se si vuole cominciare un percorso per migliorarsi e ho detto ah ok finalmente una che mi capisce perché tutti gli altri dicevano ah sì per se hai questo problema risolviamo questo eccetera lei diceva invece si può fare anche solo se si ha voglia di migliorarsi quindi ho detto ok mi convince quindi ho mandato una mail lei mi ha risposto ci ho messo tipo due settimane a rispondere tre settimane a prendere appuntamento perché comunque non rispondevo mai perché rimandavo sempre non rimandavo sempre perché avevo paura eccetera eccetera alla fine ho preso questo primo appuntamento e adesso vi parlo anche del primo appuntamento perché varie persone mi chiedono ma Chiara non hai paura di non aver nulla da dire cosa le hai detto all'inizio io in realtà le ho spiegate semplicemente perché ero lì no? quindi ci si impara a conoscere non me lo ricordo precisamente però le ho detto appunto guardi io voglio faccio questo lavoro queste difficoltà non abbiate paura di dire le vostre difficoltà al professionista perché è lì apposta cioè è come se io avessi è ovvio che un po' di imbarazzo ci può essere e se io andassi dalla ginecologa e avessi paura a dire un disagio che provo un fastidio che provo cosa ci vado a fare nel senso il professionista è lì per voi non è che ride di voi ma è lì per aiutarvi quindi stessa cosa anche se ho detto che lo psicoterapeuta sia un medico anzi molte volte è uno psicologo cinque anni di studi più quattro anni di specialistica in psicoterapia che possono fare sia i psicologi sia appunto i medici molto spesso medici psichiatrici ma non è detto in ogni caso è appunto una specialistica la psicoterapia quindi sono persone che hanno studiato almeno nove anni e che oltre a questa specialistica probabilmente hanno fatto corsi su corsi su corsi esempio corso di mindfulness corso di quell'approccio particolare ecco io sento la mia la mia ha fatto migliaia di corsi veramente è sempre in continuo aggiornamento è una cosa che mi racconta è una cosa molto bella che mi dice appunto dice anche io ho fatto questo percorso di terapia anche io so cosa provi e lo faccio tuttora cioè non credere che io terapeuta non vada in terapia cioè ci vado perché ancora certe cose non le ho risolte bene ma questo non mi impedisce di far bene il mio lavoro in ogni caso si spiega un po' perché si è lì no? e magari comincia la mia la mia terapeuta ha cominciato a farmi domande riguardo al mio lavoro e così in realtà io sono una persona che parla molto quindi non avevo problemi a dire le cose però altrimenti comincio a parlare il terapeuta cioè non è fatto per non mettermi in difficoltà anzi ha studiato per rendervi a vostro agio il più possibile dalla prima seduta mi ha sottolineato guarda allora facciamo prima due o tre sedute di prova nel senso che può essere che tu non ti trovi bene con me perché può essere che non non entrami in sintonia non sei d'accordo con il mio modo di pensare non sono appunto la professionista umanamente adatta più a te e quindi dopo due o tre sedute al massimo lo si capisce quindi lei mi ha sempre detto questa cosa non ti preoccupare dimmelo se c'è una cosa che io ti dico con cui non sei d'accordo se c'è un approccio che per te non funziona se c'è una cosa che io ti dico che non ti piace per diversi motivi tu dimmela perché qui dobbiamo essere sinceri perché siamo qui per te siamo qui per questo tuo percorso ed è inutile che tu mi voglia far contenta cioè no perché è inutile non sono un tuo genitore non sono un tuo parente non sono tuo marito non sono niente sono qui per aiutarti quindi qualsiasi cosa ti frulla nella mente qualsiasi sicurezza qualsiasi critica eccetera tu fammela perché io sono qui apposta per te per costruire un percorso ad hoc e specializzato su di te se tu non mi dici tutto io non posso aiutarti e mi ha sempre appunto detto questa cosa che può darsi il primo terapeuto non sia quello adatto a te e sicuramente questa cosa fa paura perché uno perché abbiamo paura di sprecare soldi due perché dici ok il primo è adatto a me e ti fai delle pare quindi magari sono io che non ho qualcosa che non va perché non è adatto a me ecco sempre i stessi problemi nessuno mi capisce no semplicemente capita che ci siano professionisti con cui ci troviamo meglio e che ci siano professionisti con cui ci troviamo peggio il punto è che un percorso di terapia può durare anche anni durerà anni e quindi non ha senso cercare di adattarsi al terapeuta ma deve essere il terapeuta che deve essere buono per te non il contrario se un terapeuta per caso non è adatto a voi sentite che non vi capisce non riuscite a comunicare bene non è colpa di nessuno capita e si prova qualcun altro ma non è colpa vostra non è è una cosa che succede perché non tutti gli umani vanno d'accordo non tutti gli umani sono fatti per poter andare d'accordo e per trovare quell'incastro ok quindi non vi preoccupate non è colpa vostra se il primo professionista che avete trovato non è quello giusto è una cosa che sentite semplicemente se sentite che proprio non funziona cambiatelo non c'è nulla di male non state perdendo tempo perché state facendo qualcosa per voi stessi ed è questa la cosa fondamentale capita con tutti capita con tutte le altre professioni potete andare in un ristorante che agli altri piace tantissimo e a voi non piace non è che il ristorante è colpa mia che è sono i vostri gusti no? potete andare da un nutrizionista e non trovarmi bene potete andare da un personal trainer e non trovarvi bene ci può stare non è colpa di nessuno e so che è difficile ma bisogna cercare di ricominciare se si è convinti che si vuole fare questo percorso di terapia questa cosa ci tenevo a dirla perché molte persone mi hanno scritto appunto che hanno paura di aver sbagliato terapeuta o hanno paura di sbagliare figura professionale prima di andare nel vivo voglio sottolineare una cosa il grandissimo grandissimo difetto di un percorso di terapia è il costo ora molte persone mi hanno appunto chiesto il costo io vi dico quanto pago io perché non ho problemi a dirvelo e non ho problemi anche a dirvi che è una cosa è un costo un po' proibitivo io pago 70 euro all'ora e faccio un'ora a settimana circa un'ora ogni 10 giorni di solito prendo un appuntamento ogni settimana quindi sono in tutto 280 euro al mese che io sono mi sento privilegiata a poter spendere al mese per lavorare su me stessa e per me li valgono tantissimo cioè proprio io sono contentissima di spendere quei soldi ok però mi rendo conto che sia un prezzo proibitivo ora io so che alcune persone spendono anche meno ad esempio riuscendo a farlo online io sono contenta di riuscire a farlo di persona ma se vi rendete conto che magari il prezzo online potete permettervelo provate online se vi rendete conto che non riuscite a muovervi di casa non avete tempo di andare fisicamente in un posto non volete che nessuno lo sappia in famiglia quindi magari se vi prendete su andate una visita qualcuno lo scopre lo volete fare online non c'è problema secondo me è molto utile anche online e può essere una buonissima alternativa appunto all'andare di persona e tecnicamente appunto andare in terapia online può aiutare ad abbassare i costi perché giustamente non c'è neanche il costo di sostenere un ufficio ad esempio per il professionista quello che è certo è che sicuramente in ogni caso è un costo alto da affrontare perché non è alta il prezzo della seduta in seno cioè se veramente se io vado da un professionista ci sta che io per una visita di un'ora io spenda 50 60 70 euro il problema fondamentale è che questa visita devi farla una volta a settimana cioè è utile se la fai una volta a settimana ed è questo il reale problema il fatto non è il costo in sé dell'ora perché per me li vale il punto è che è una cosa che va ripetuta per anni probabilmente almeno per 2-3 anni direi e una volta a settimana quindi è lì che il prezzo si fa sentire veramente è un percorso che ti cambia la qualità della vita cioè proprio non non tornerai mai indietro non mi sono mai pentita di averlo cominciato quindi per me li vale tanto è ovvio che il valore dei soldi è soggettivo quindi per me li può valere per voi no non sono informata sul bonus psicologico quindi quello vi chiedo di informarvi voi io non sono andata attraverso bonus psicologico perché sono andata da una professionista privata quindi non so onestamente come funzioni mi dispiace ma su questo lato non vi posso aiutare semplicemente sicuramente esiste un bonus psicologico e potete informarmi e magari riuscite anche ad accedere una domanda è ricordo che tempo fa ci dissi di essere procrastinatrice ti ha aiutato? sì e no in che senso? allora su questa cosa bisogna aprire una parentesi su come funziona la nostra mente perché se non capiamo questo non capite neanche la mia risposta io cerco di spiegarvelo veramente il più semplicemente possibile perché non è il mio campo giustamente e cercherò anche di mettervi un disegno così potete capire meglio la nostra mente funziona in questo modo noi abbiamo allora voi immaginatevi di avere questo ovale no? e da una parte c'è la vostra mente i vostri pensieri i vostri bisogni più più profondi ad esempio il bisogno tutti abbiamo il bisogno di sentirci amati sentirci accettati sentirci compresi eccetera eccetera questi bisogni proprio viscerali intimi profondi che abbiamo tutti sono il nostro bambino interiore è letteralmente il nostro bambino cioè come ci sentivamo da bambini da bambino tu hai bisogno di sentirti amato sentirti accettato sentire che stai facendo il meglio di te sentire che appunto hai bisogno di tutte queste rassicurazioni e se queste rassicurazioni in un modo o nell'altro non ti vengono date si formano appunto delle altre cose quindi questo è il nostro bambino interiore il nostro bambino interiore ci sarà sempre cioè è sempre con noi e lo scopo della terapia è connetterci con questo bambino interiore quindi con i nostri bisogni profondi perché ogni cosa che facciamo ogni azione che facciamo è data da ciò che vuole il bambino interiore in noi quindi ad esempio alcune tecniche come le visualizzazioni ti vogliono portare a contatto con il tuo bambino interiore per capire che cosa c'è che non va quali quali i suoi bisogni non vengono accolti quali di cosa ha bisogno realmente qual è la sua insicurezza perché si sta sentendo in quel modo e tutto ciò che il nostro bambino interiore sente che non ci piace non lo vogliamo vivere cioè la la sofferenza che provavamo da piccoli quando qualcuno ci criticava ci faceva vergognare noi non la vogliamo provare ma questa sensazione noi la proviamo anche ora ok quando qualcosa succede noi proviamo questa sensazione all'interno ma visto che vogliamo provare subito subitissimo proiettiamo diversi comportamenti che sono comportamenti non funzionali ma che ci proteggono ci proteggono dal sentire queste sensazioni molto sgradevoli per noi e che ci portano appunto a sensazioni sgradevoli che proviamo in infanzia nella parte in cui c'è il bambino interiore abbiamo anche li chiamiamo genitori ma non sono i genitori possono essere delle figure o un mix di figure importanti che abbiamo avuto nella nostra crescita perché tutti i nostri traumi tutte le nostre insicurezze tutti i nostri comportamenti sono dati da come siamo cresciuti ok quindi c'è tantissimo della nostra infanzia in come ci comportiamo ora tutte le insicurezze che abbiamo sono dovute a cose che sono successe nella nostra infanzia quasi tutte quindi è molto importante anche scavare si farà anche un percorso di storia di vita quindi è molto importante scavare nella propria infanzia e capire chi ti ha insegnato che è giusta questa cosa piuttosto che un'altra chi ti ha insegnato che questa cosa è sbagliata chi ti ha insegnato che tu non te lo meriti chi ti ha insegnato che qualcuno lo può fare meglio di te eccetera eccetera quindi ci sono queste due li chiamiamo genitori ma ripeto li chiamiamo genitori perché sono due figure ma non è detto che siano i genitori non è detto che siano solo i genitori non è detto sono proprio figure che ci sono state nella nostra infanzia che ci sono state nella nostra vita potenti che sono disfunzionali quindi queste figure disfunzionali ad esempio io vi rivelo le mie io ho una parte critica e una parte esigente questa parte critica e questa parte esigente vanno a riflettersi sul mio bambino interiore quindi vi faccio un altro esempio per farvi capire ma voi probabilmente siete fatti in modo diverso quindi non è detto che vi rispecchiate in questa cosa ma per farvi capire il meccanismo ad esempio ottengo qualcosa ottengo qualcosa di bello ottengo un riconoscimento bello sono felice no ma subito la mia parte di critica che ho dentro di me comincio a dire al mio bambino interiore sì vabbè ma chi vuoi che sia ma altri l'hanno ottenuto cioè ok bene però potevi fare anche di meglio magari non è andata come doveva andare alcune persone hanno ottenuto questa cosa prima di te non è tutta sta cosa no quindi il mio bambino interiore non si sente bene no sente delle sensazioni date da questa persona critica questo pensiero critico nella nostra testa che ci siamo inculcati ci hanno inculcato ad esempio a me hanno inculcato e quindi che subito io posso reagire in tre modi e adesso vi dirò i tre modi ma prima facciamo un altro esempio invece parlarvi un altro esempio è la mia parte esigente la mia parte esigente non mi fa godere le vacanze infatti anche in vacanza io devo devo girare un video che sia un video per questo canale che sia un video smr io sto male cioè mi sento incolpissima se non lo faccio ma sono in vacanza cioè non sono obbligata a farlo però sento questo obbligo e mi sento malissimo uno schifo se non lo faccio sento che non ho fatto abbastanza che non sono abbastanza che ho sprecato un'opportunità che questa opportunità non tornerà più che mi costava farlo tanto cioè ce l'avevo il tempo no però sono in vacanza cioè il mio adulto funzionale la parte che contrappone queste due parte critiche parte esigente che vorremmo distruggere la parte dell'adulto funzionale che voglio costruire mi dice chiaro ma tu sei in vacanza cioè tu il tuo lavoro lo fai però adesso sei in vacanza non devi lavorare tutto il tempo non devi non fa niente se non giri quel contenuto se ti andava bene se non ti andava non fa niente non ti devi sentire in colpa se non l'hai girato ci sarà un'altra occasione va bene così e già faccio fatica a dire questa cosa perché io non lo penso ancora questa cosa ok però l'adulto funzionale che viene interpretato dal terapeuta ti dirà questa cosa no ma che ora sei tranquilla ti dirà tutte queste cose no e ripeto vi faccio molto fatica a dirle perché ho ancora questa parte di gente che picchia il mio bambino interiore ok quindi questo bambino interiore sentendosi dire queste cose ci sta male ok ci sta male e cosa succede non è che ci sta male e basta perché quando questo bambino interiore ci sta male non ci vogliamo sentire così male ok quindi abbiamo di solito tre macro comportamenti che possiamo mettere in atto che ognuno noi mette in atto dipende ad esempio io ho la procrastinazione ma ognuno di noi è qualcosa di diverso e abbiamo questi tre macro comportamenti che di solito si mettono in atto per evitare che il bambino si senta così per evitare che il bambino si senta a disagio ok quindi la parte critica o la parte esigente nel mio caso ma possono essere i vostri problemi non sono i miei dicono al mio bambino interiore che non ha fatto abbastanza che non è abbastanza eccetera e il mio bambino interiore per non sentire queste cose reagisce in uno di questi tre modi e questi tre modi possono essere ipercompensazione faccio ancora di più di quello che dovrei fare mi sento così ok allora domani lavoro 12 ore al giorno perché devo dimostrare a me stessa che non è così che in realtà io valgo c'è questa parte di ipercompensazione che ragiona con ok adesso dimostro a tutti che non è così quindi faccio ancora di più per compensare questa parte critica ed esigente c'è la procrastinazione quindi non mi voglio sentire così faccio qualcos'altro e questo è molto il mio meccanismo quindi quando ad esempio io vi sto parlando in modo molto personale io ad esempio devo mettere a fare una cosa e la procrastino io in realtà non è che procrastino perché sono pigra ok ma perché quella cosa mi fa sentire in un certo modo io non la sento non lo sento neanche questa sensazione è spiacevole perché non la voglio sentire perché è troppo profonda e perché non la voglio accettare ma in realtà ciò che sta succedendo nella mente è io ho paura a fare questa cosa perché mi sento insicura perché mi sento e io questa cosa non l'ho ancora scoperto perché procrastino in tutte le cose perché è una cosa talmente profonda che fai fatica proprio a capirla cioè la stiamo capendo ancora è difficile arrivare lì in fondo perché tutta la nostra vita noi attuiamo questi tre tre comportamenti per non sentirlo quindi tu l'hai nascosto talmente tanto in profondo questo tuo disagio del bambino interiore che non ci vuoi arrivare che fai di tutto e anche se tu vuoi arrivarci io razionalmente voglio capire perché procrastino ma faccio tanta fatica perché perché la tua mente ti protegge ti protegge da questa sensazione brutta che proveresti se scopri veramente cosa c'è che non va cosa sente veramente il tuo bambino interiore ok quindi è molto complicata la cosa abbiamo ipercompensazione abbiamo procrastinazione e abbiamo mi sembra sia tipo accettazione cosa che io non ho tanto però ad esempio se una persona ha il trauma di ha questa paura ha questo uomo brutto che gli dice che dice il bambino interiore nessuno ti amerà mai il bambino interiore sente che non è abbastanza amato e quindi o va in ipercompensazione quindi ama tantissimo lui cioè magari se io amo così tanto se io faccio così tanto per un'altra persona magari questa persona un pochino mi amerà oppure procrastinazione quindi un altro comportamento può essere tanto vale che non abbia relazione perché tanto andano tutti male perché nessuno mi amerà mai o ci sarà io provo a fare una relazione ma tanto so che prima o poi mi lascerà perché cioè io sono fatto così io sono inamabile e è così punto in realtà non è così punto bisogna combattere chi ti dice che non puoi essere amato perché qualcuno te l'ha insegnato perché non è così e lo scopo è creare questo adulto funzionale che ti dia la sicurezza di dirti noi invece tu ti meriti di essere amato come qualsiasi altra persona ok e il terapeuta farà questa funzione finché in te non si svilupperà questo adulto sano che ti dice non è vero non è vero se questa persona ti comporta male con te non è perché tu non riesci non puoi essere amato ma è questa persona che ti sta comportando male punto tutti i meriti di meglio non devi accettarlo ed è così quindi questo è lo scopo della terapia in generale quindi sì un pochino mi ha aiutato a combattere la procrastinazione perché cerco di non procrastinare basta cerco di andare dietro quindi dire ok perché sto evitando questa cosa posso evitarla fa così tanto male mi sento così tanto male a farla certe cose riesco a farle combattendo l'ansia combattendo io ho un problema anche con la noia ad esempio sono frustrata a provare noia quindi piuttosto di fare una cosa noiosa io procrastino quindi ci sono diverse cose accettare la noia è un lavoro che si fa quindi dipende io non procrastino sempre per la stessa cosa ok quindi è veramente un mondo molto complicato la nostra mente è un mondo molto complicato ma spero di averlo spiegato il meglio possibile ognuno ha le proprie insicurezze e ognuno ha il proprio modo di reagire a queste insicurezze il nostro scopo è creare dentro di noi qualcuno che sappia parlare consolare accettare ascoltare il nostro bambino interiore e che sappia reagire in modo da proteggerlo e farlo sentire accolto e amato ok altre due domande le ultime due domande durante il colloquio riesci a essere sincera e dire proprio tutto io a volte mi sento frenata e un'altra ragazza mi dice non so un'altra ragazza ragazzo ti è mai capitato di mentire al tuo terapeuta? mentire mai ovviamente alcune cose fai fatica a dirle e fai fatica a dirle perché non le accetti ed è proprio questo il problema non accettiamo alcuni lati del nostro carattere non accettiamo che qualcosa ci faccia male non accettiamo non accettiamo ciò che ci dice il nostro bambino interiore e questa cosa non è che la capiamo però cosa ci porta a mentire il fatto che non accettiamo questa cosa ma noi mentiamo e basta non è che riflettiamo ok mento perché questa cosa non mi sta bene questa cosa non la voglio ammettere perché non ci siamo neanche arrivati che non la vogliamo ammettere e quindi sì a volte faccio fatica ad accettare di dover dire questa cosa a volte la mia mente non la vuole dire e la mia terapeuta se ne accorge ce lo dice ok no la tua mente ti sta mettendo delle protezioni e non ci siamo proviamo ad arrivarci da un altro modo cioè proprio ci sono delle protezioni perché noi siamo cresciuti con certe cose e la nostra mente ci protegge protegge questo bambino interiore fragile quindi queste protezioni ci sono ancora ora ma ciò che dobbiamo capire è che queste protezioni non ci servono più perché se nell'infanzia magari noi siamo cresciuti con questa io ad esempio sono cresciuta con questa parte critica di questa parte esigente adesso non c'è più sono un'adulta però queste parti rimangono in me e io pian piano devo distruggere queste protezioni perché devo distruggere questa parte critica ed esigente che devo capire che non mi serve più ma io sono cresciuta così sono cresciuta ragionando così e quindi ovvio che faccio fatica a togliermi queste cose perché ho 30 anni che ragiono così e 30 anni che penso che io sia così che io accetto il fatto di essere procrastinatrice perché sono fatta così e basta no non sono fatta così e basta c'è molto di più dietro e questa cosa voglio che voi la capiate ecco perché qualunque problema abbiate qualunque disagio abbiate no non siete solo così ma c'è tanto altro dietro solo ultimissime domande quanto dura il percorso io sono lì da un anno penso che almeno per tre anni ce l'avrò a volte sì è frustrante a volte ci sono degli incontri in cui dici non abbiamo concluso nulla a volte ci sono dei periodi in cui senti di non aver concluso nulla è normale o quando ho fatto una dieta dimagrante ad esempio sì ma io non cioè magari prima andava bene adesso sono bloccato e quindi cosa sto facendo a fare no dovete continuare perché non è detto che si vedano sempre risultati ma se voi siete convinti e vi trovate bene credete nella persona che vi sta facendo che vi sta curando che con cui siete in terapia fidatevi che prima o poi arriva è normale che ci siano delle onde l'ultima cosa ecco a volte anzi più ti connetti col tuo uomini interiore con le tue emozioni vere più piangi mi è capitato tantissimo di piangere ma quei pianti forti che fai proprio fatica a smettere perché sono pianti da bambini pianti di quanto stai veramente male quando sei connesso col tuo disagio profondamente e sono pianti che vanno fatti perché non bisogna cioè essere a contatto con il nostro bambino interiore è ciò che vogliamo è ciò che cerchiamo ed è normale che quando arriviamo lì in fondo è doloroso perché riviviamo certe sensazioni che noi stiamo facendo di tutto per evitare cioè attuiamo qualsiasi comportamento per evitare questa sensazione ma questa sensazione per migliorare questa sensazione la dobbiamo provare e dobbiamo capire perché c'è e dobbiamo capire come curare questa sensazione nel profondo quindi sì molto molto spesso mi capita di piangere molto spesso mi capita proprio di avere questo nodo in gola pesantissimo pesantissimo e a volte sì mi scoccio a piangere mi vergogno a piangere ma è una cosa buona anche se fa male anche se è doloroso anche se è duro perché a volte dici che cavolo vengo qui a soffrire cioè tanto vale che mi tenevo la mia procrastinazione ma almeno non soffrivo così tanto è un percorso è una terapia per stare meglio prima sì ti tocca un pochino star peggio e ti tocca affrontare i tuoi demoni interiori se così si può dire spero davvero di esservi stato utile spero davvero che questo video anche se lunghissimo 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 possa esservi possa avervi convinto ad affrontare un percorso del genere o possa semplicemente avervi fatto idea fatto un'idea di che percorso magari sta affrontando una persona di fianco a voi e perché lo fa noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video mi mando un bacione ditemi nei commenti cosa ne pensate davvero anche voi se volete aprirvi con me ditemi se avete mai iniziato un percorso di terapia cosa vi blocca come vi siete sentiti le vostre difficoltà ditemi tutto quello che vi passa per la testa perché sono contenta di leggervi vi mando un bacione ciao